Eccellenza, reverentissima, in poco più di dieci anni che lei è stata la guida di questa diocesi, tantissimi sacerdoti, circa una ventina? Beh, di più, veramente. Se con loro che sono di agoni oggi, che saranno sacerdoti in un anno, saranno più di trenta. Ma questo è dono dello Spirito Santo. Ecco, io ho sempre detto che questa abbondanza di vocazioni ci interpella, ci chiede di essere ancora più generosi, perché quando più avete ricevuto, tanto più dovete dare, dice il Signore. E quindi non è certo, diciamo, merito, capacità di qualcuno di noi. È dono dello Spirito e ci dobbiamo far guidare dallo Spirito. Cioè dire a questi cinque ragazzi, quindi cinque diaconi, cinque giovani che oggi hanno avuto l'imposizione delle mani di Sua Eccellenza, Monsignor Angelo Spinelli? Direi che siamo grati al Signore e allo Spirito Santo. Ciascuno di loro, l'ho detto un po' nell'Omelia, è arrivato a questa giornata facendo un percorso molto diverso, l'uno gli uni dagli altri. Un percorso non sempre agevole, a volte un po' accidentato, ma un percorso che la Providenza ha disegnato per arrivare a questa consacrazione. E allora rendiamo grazie al Signore per questo e l'augurio di poter continuare il cammino, qualunque sia la strada che la Providenza disegnerà per loro, nell'obbedienza sempre alla volontà di Dio. Francesco Alpino, della parrocchia di Rocca Gloriosa, che significato ha per te oggi questa giornata? Penso che tutto sia sintetizzato da una frase che c'è nel rito di ordinazione. Il Vescovo al momento della promessa di obbedienza ha detto, Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a combimento. Quindi penso che questa tappa, che è poi il primo grado del sacramento dell'ordine, sia proprio il momento in cui Dio inizia a portare a combimento la sua opera. Un'opera iniziata tanti anni fa, quando mi ha fatto capire che mi chiamava e che oggi appunto viene manifestata apertamente in questo rito di ordinazione. Agnelloforte della parrocchia di San Nicola e San Daniele di Camerota. E' un momento di un cammino molto lungo, in cui uno si educa a offrirsi per gli altri. Quindi il diaconate non è altro che la consapevolezza, che siamo chiamati per una comunità. Quindi essere servi completamente nella figura di Cristo. Antonio Altarsha, tu vieni da lontano, tu vieni dalla Siria. Vengo da Siria e da Masco, che ormai mi sento accolto molto bene dei tegianesi, sto qua quasi cinque anni. Hai fatto una scelta molto importante, com'è nata? Sì, è nata in Siria, che ho scoperto la mia vocazione in Siria, però per motivi di organizzazione cristiana dovevo lasciare per forza Siria, nel senso che non c'è un seminario, devo andare a studiare fuori. Poi a un certo punto la provvedenza di Dio è sempre grande, come diceva Monsonor Angelo Spino, l'Omelia, che ho incontrato anche per caso la provvedenza di Dio, l'ho incontrato in Sicilia. Lui praticava l'esercito spirituale e poi mi ha portato qua. E questo è stato un segno per me molto forte, nel senso che oggi ho consacrato me stesso a Dio. Per me è un giorno molto importante, poi mi sento che ho lasciato casa, famiglia, tutte cose, però mi sento accolto molto bene e bene tutte queste zone e ringrazio di cuore di tutti quanti. E hai imparato così bene anche l'italiano. Abbastanza, anche un po' di dialetto, cerco sempre di imparare, però è un po' difficile. Antonio Toriello della parrocchia di San Nicola e San Daniele di Camerota, ben due diaconi dalla parrocchia di Camerota. A testimonianza di cosa, Antonio? Ma niente, io ormai da anni che militavo nella Caritas, infatti come si vede la mia è una vocazione adulta. Quindi da anni che stavo in Caritas, quindi abbiamo una casa di accoglienze, attraverso appunto il gruppo Caritas è cresciuta ancora di più questa voglia di servire il Signore. Quindi niente, mi sono avvicinato al sacerdozio e spero di arrivarci. Tony Palma, il gran giorno è arrivato, un giorno che tu hai sognato da quando eri praticamente in tenera età. Eh sì, dal liceo artistico è partito davvero un cammino insieme al Signore, che mi ha portato a maturare poi nel tempo anche all'Istituto di Scienze Religiose, dopo diplomato e poi proprio con quella insoddisfazione verso le cose del mondo, ecco con l'aiuto del mio parroco, di quanti sono stati preposti poi alla mia formazione. Bene, dopo sette anni siamo qui a rendere grazie al Signore, a poterlo servire davvero nella gioia, perché il Signore ci porta la gioia, ecco. Hai avuto l'imposizione delle mani di una persona per te speciale, Don Angelo Spinillo. Sì, 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 molto speciale, davvero un padre e un pastore. È nel nostro cuore, nelle nostre preghiere e soprattutto davvero cerchiamo di lavorare insieme nella vigna del Signore. Grazie. Grazie. Grazie.